buongiorno buongiorno eccoci qua per la diretta di stampa evangelo di oggi è una diretta importante parleremo di cose molto rilevanti quindi i saluti vanno prima di tutto a chi giunge nella primissima connessione vedo giovanni barbaro corrado salonia mauro chialastri francesca bruschi giovanna arminio e monica consigliere come primi connessi insieme a giulio suardi e allora vi dico è una diretta molto importante partiremo dalla lettura di una pagina straordinaria di vangelo del vangelo secondo matteo ora che siamo in tempo quaresimale sarà una pagina più che illuminante dalla lettura del vangelo passeremo a una riflessione intorno al tema degli ultimi è un tema fondamentale per la nostra attività di campagna elettorale per tutta la nostra attività politica dunque partiamo senza indugi dalla lettura del vangelo di matteo siamo nel capitolo venticinque capitolo venticinque i versetti sono sedici oggi dal trentuno al quarantasei li leggiamo insieme in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra i capri alla sinistra allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra venite benedetti del padre mio ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo perché io ho avuto fame mi avete dato da mangiare ho avuto sete mi avete dato da bere ero forestiero e mi avete ospitato nudo e mi avete vestito malato e mi avete visitato carcerato e siete venuti a trovarmi allora i giusti gli risponderanno signore quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare assetato e ti abbiamo dato da bere quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato nudo e ti abbiamo vestito quando ti abbiamo visto ammalato in carcere siamo venuti a trovarti rispondendo il reddito a loro in verità vi dico ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me poi dirà a quelli alla sua sinistra via lontano da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli perché ho avuto fame non mi avete dato da mangiare ho avuto sete non mi avete dato da bere ero forestiero e non mi avete ospitato nudo e non mi avete vestito malato e in carcere e non mi avete visitato anch'essi allora risponderanno signore quando mai ti abbiamo visto affamato assetato forestiero nudo malato o in carcere e non ti abbiamo assistito ma egli risponderà in verità vi dico ogni volta che non avete fatto queste queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli non l'avete fatto a me e se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna questa questa pagina di vangelo è talmente bella talmente forte anche talmente nota che è quasi faticoso commentarla senza dire banalità voglio dire una cosa noi siamo in campo siamo dunque dentro questa faticosissima campagna elettorale per stare vicino a chi non ha voce abbiamo identificato nel bambino non nato nel malato sofferente in quello che la società vuole avere zittito o eliminato il prossimo che è figura cristi il mago cristi che è il il cristo che si propone davanti a noi nella sua fatica e sofferenza e allora gli diamo la nostra voce gli diamo la nostra forza al debole cerchiamo di dare coraggio spieghiamo a tutti quelli che la terra non vuole a tutti quelli che devono essere espulsi dalla dimensione persino della vita che con noi possono camminare insieme da fratelli e sorelle lo diciamo al bambino trattato come merce nella transizione finanziaria figlia dell'utero in affitto lo diciamo alla donna che viene considerata come fattore della produzione non persona da due gay che ne affittano l'utero lo diciamo alla ragazza che viene squartata per avere il suo ovulo a diecimila dollari a ovulo stesso diciamo agli ultimi di questa terra al malato che le persone non vedono l'utero di eliminare al disabile che disturba persino la vista dei cosiddetti normali diciamo loro noi vi siamo accanto e questo è il nostro modo di dire sì a cristo e al suo comandamento sperando di stare tra le pecore e non tra i capri alla fine dei giorni questo motiva e fa agire il popolo della famiglia quello che maria via di girolamo in un solo commento di una sola parola definisce umanità esattamente quello che stiamo facendo cercare di restare umani dice mauro chialastri uscendo di strada per il volantiraggio abbiamo incontrato tante sofferenze troppe persone dimenticate dalla vecchia politica esattamente questo alla politica non interessa nulla delle persone l'avete visto io dico sempre guardate il nostro simbolo noi facciamo votare per la parola popolo per la parola famiglia per un'immagine che è una mamma un papà dei figli perché tutti almeno figli siamo stati la vecchia politica fa votare per il simbolo col nome sopra berlusconi presidente salvini premier meloni grasso bonino lorenzina avete visto i simboli hanno tutti il nome il pd tutti sanno ormai è il pd di renzi lo chiamano pdr noi facciamo votare per un simbolo che non ha nomi nessuno di noi si è si è proposto in questa campagna elettorale con il proprio nome abbiamo chiesto il voto per un simbolo tra l'altro non conosciuto lo stiamo facendo conoscere in questi giorni in queste ore e questo è il lavoro che dobbiamo fare per far bene la campagna elettorale peraltro rendere noto ciò che stiamo facendo perché perché si entra nel vivo amici miei saluto giacomo collotto da prato saluto romana cordova dal trentino l'apoggi luppi del coordinamento editoriale a cui dico subito che domani non andrò in onda domani non ci sarà stampa evangelo torneremo con stampa evangelo giovedì lo ripeto giovedì gli impegni di campagna elettorale mi portano ovunque cosa vede vengo dalla faticosa tournée sardo calabra ieri ero in calabria oggi sarò a torino a 1500 chilometri dalla mezza terme come dice bene massimo cherubini adesso entriamo nella fase politica di questa puntata di stampa evangelo mettete mi piace e condividete tutti perché sto per parlare delle questioni politiche determinanti ripeto giampiero bonfanti ricorda domani a monza oggi invece alla gam a torino noi ci vedremo con stampa evangelo giovedì quindi fate tesoro di questa puntata ma soprattutto un mi piace alla diretta un condividi sulla vostra pagina perché le cose che sto per dire sono di una qualche rilevanza quindi fate arrivare tutti a ascoltare queste parole che derivano dal famoso appello di Matteo Renzi all'elettorato cattolico giovedì ci vediamo a Salerno dice Raffaele Adinolfi saremo ovunque infatti mi sa che neanche giovedì facciamo stampa e vangelo la facciamo venerdì lo dico a a a a a la Pongiruppi in maniera che segni noi torniamo venerdì in diretta con stampa evangelo quindi conservate questa diretta e fatela seguire a più persone possibili il mi piace la diretta condividi sulla vostra pagina facebook e facciamo anche l'invito diretto a tutte le persone affinché partecipano alla diretta stessa un consiglio veramente che do è di fare l'invito amici direttamente alle persone allora Berlusconi e Renzi due facce della stessa medaglia il Rosatellum il Rosatellum che sapete PD Forza Italia e Lega si sono votati insieme Dalino mi chiede se i voti nulli o le schede bianche vengono assegnati a qualcuno oppure sono ininfluenti le schede bianche le schede nulle vengono definite voti non validi la percentuale il famoso 3% viene calcolato solo sui voti validi quindi ovviamente più è basso il numero di voti validi meno ce ne servono per fare il 3% questo lo dico anche per motivare la ragione per cui abbiamo detto alle persone all'estero dove non siamo presenti di annullare la scheda scrivendo sopra popolo della famiglia in maniera che appunto la percentuale il 3% sia più bassa perché i voti validi sono quelli su cui si calcola il 3% questa è una technicalities tanto è arrivato Luca Andrea Massaro di Aleteia che ieri ha fatto il suo endorsement a favore di potere al popolo qui ormai siamo nella fantasia più divertente il comunque alla fine quasi meglio potere al popolo di votare bd ha visto che di questo dobbiamo parlare oggi l'appello ai cattolici al voto al partito democratico allora diciamolo con chiarezza l'appello di Renzi è non solo irricevibile ma anche abbastanza ignobile perché Renzi sa e lo dice persino lui nell'appello Manuela Miraglia dice equivale al non voto non proprio al non voto vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle il voto valido è solo quello che viene espresso quindi per avere la percentuale diciamo il numero di voti assoluti per fare il 3% più basso è bene che ci siano meno voti validi è molto banale come calcolo quindi chi vuole eseguire l'indicazione del popolo della famiglia di voti popolo della famiglia cioè annulli la scheda sulla circoscrizione estera allora dicevo di questo appello un appello di Matteo Renzi totalmente irricevibile perché consapevole del danno che è stato fatto a al popolo italiano con le leggi sull'inonichei sul biotestamento lo dice Renzi stesso sono sono cose fatte contro il mondo cattolico Francesca Patuzzi dice bene un Renzi spudorato senza vergogna don Francesco Colamonaco dice appello ignobile fatto da un ghibellino bugiardo e apostata se ne guardino bene i veri cattolici dobbiamo fare un passo in più mandiamo definitivamente all'opposizione l'apostata mandiamo all'opposizione quello che dice io ho giurato sulla costituzione e non sul vangelo senza rendersi conto di aver tradito sia il vangelo che la costituzione chiedendo addirittura il voto di fiducia sulla legge Cirinna facciamo un passo in più perché se non lo mandiamo all'opposizione è sempre lui che dà le carte e voi capite bene che le larghe intese sono l'approdo della campagna elettorale di Renzi che sa benissimo di non avere nessuna possibilità di vincere ma deve ottenere una percentuale necessaria a andare a fare cosa all'accordo col centrodestra questo spiega perché noi chiediamo il voto al popolo della famiglia chi in questo momento non coglie l'occasione storica di portare un movimento politico cattolico di ispirazione cristiana saldo sui principi non negoziabili dentro il parlamento a diventare decisivo è veramente colui che disperde il voto anzi fa peggio lo consegna all'ipotesi politica delle larghe intese è chiaro questo tipo di elemento chi non vota partito del popolo della famiglia vota di fatto partito democratico perché fa sì che il partito democratico diventi decisivo per la scloschema delle larghe intese che governa il paese dal 2011 lo dico a chi si sente sempre dire al voto utile il voto utile il voto al pdf un voto disperso signori il voto al popolo della famiglia è l'unico voto che assicura che nel prossimo parlamento il pd sia all'opposizione quindi chi ha voglia di respingere veramente l'appello di renzi facendo seguire lo striscione renzi ce ne ricorderemo che abbiamo portato in piazza noi lo dico a qualche amico che oggi se ne appropria e non aveva idea di cosa far scrivere sugli striscioni lo abbiamo scritto noi quello striscione perché avevamo senso politico fin da allora e allora noi facciamo attività politica fin da allora e abbiamo innalzato uno striscione politico e abbiamo scritto renzi ce ne ricorderemo anche perché oggi qualcuno se ne possa appropriare indebitamente il popolo del family day ha detto renzi ce ne ricorderemo noi saremo conseguenti a tutto questo chi non vota popolo della famiglia ed è venuto al family day sta disperdendo il voto o peggio lo sta dando all'ipotesi larghe intese cioè a tenere il partito democratico centrale nella coalizione di governo se si vuole rompere questo schema si vota popolo della famiglia perché il family day rappresentato da noi non da altri è semplice si prendono i filmati del family day di san giovanni o di o di circo massimo e si vedrà che sono maria di nolfi nicola di matteo gianfranco amato a parlare in tutte e due le piazze non ci sono altri candidati a queste elezioni politiche che hanno parlato alle piazze dei family day non ce ne sono ce n'è uno al quarto posto della lista leghista capitanata da giulia buongiorno la verità dei fatti indubitabile fate il fact checking guardate i filmati è che maria di nolfi gianfranco amato nicola di matteo hanno parlato a san giovanni hanno parlato al circo massimo oggi sono candidati del popolo della famiglia di tutti quelli che hanno parlato a san giovanni al circo massimo c'è solo un altro candidato al quarto posto nella lista leghista capitanata da una nemica del family day che si chiama giulia buongiorno quindi chi chiede voti per questa opzione chiede voti per i nemici del family day quindi evidentemente non lo rappresenta la rappresentanza politica evidentemente di quelli che erano lì che hanno parlato in quella piazza e che oggi si ritrovano candidati nel popolo della famiglia e se volete mandare il partito democratico all'opposizione poiché l'esito politico di queste elezioni già scritto secondo la scrittura del rosatellum votato insieme da pd forse italia e lega e andare al governo di larghe intese subito dopo le elezioni per mandare invece il pd all'opposizione far saltare lo schema delle larghe intese facendo entrare il popolo della famiglia in parlamento rompendo dunque lo schema l'unico meccanismo possibile e credibile è il voto al popolo della famiglia giocati in attacco non in difesa quelli che dicono a disperdiamo il voto se votiamo pdf disperdete il voto anzi peggio fate vincere il pd se non votate pdf solo votare popolo della famiglia in questo momento salva l'italia dall'esito del governo di larghe intese e sicuramente il lascito politico della piazza del femmini dei è dato da chi su quel palco c'era in quel palco ha parlato e ora è candidato del popolo della famiglia non di altre formazioni politiche non esiste nessun altro candidato in alcuna altra formazione politica sono solo bugie e fake news ce n'è solo uno al quarto posto ineleggibile della lista della lega capitanata da un nemico del femmini dei che si chiama giulia buongiorno è chiaro il termine adesso voglio che per tutti sia chiaro questo è il principio con cui si va in queste ultime due settimane della campagna elettorale sono dodici giorni sono rimasti dodici giorni e non si lascia uno spazio a quelli che vogliono dire il voto al pdf è un voto disperso si risponde stando all'attacco non stanno in difesa si risponde con i fatti e lo ripeto i fatti dicono che chi era sul palco del femmini dei ha parlato a tutti e due i femmini dei si chiamano maria rinolfi nicola di matteo gianfranco amato che queste tre persone sono i candidati di punta in moltissime circoscrizioni e rappresentano dunque l'evidenza della continuità delle piazze del femmini dei di tutti gli altri che hanno parlato non c'è nessun candidato se non solo uno al quarto posto della lista leghista capitanata da una nemica del femmini dei che si chiama giulia buongiorno e chiedere voti per i nemici del femmini dei è un tradimento plateale dei femmini dei che si può fare solo per interesse personale o per insipienza politica poi ognuno scelga non ce ne sono altri l'occasione storica che non capiterà più di portare un movimento politico saldo sui principi non negoziabili di cattolici grazie al fatto che c'è una legge proporzionale con il 3 per cento di sbarramento è un'occasione che tutti i cattolici le persone cristianamente ispirate devono cogliere chi non lo fa lo fa in mala fede lo fa per ragioni di livore personale lo fa per ragioni di interesse personale e compie un peccato grave storicamente certificato di insipienza politica davanti a un'occasione storica che non capiterà mai più e liberamente allora disperde il voto lì davvero c'è una dispersione del voto davanti a questa occasione storica che si può e si deve cogliere basta pochissimo basta la consapevolezza che questa occasione non ritornerà mai più e dunque va colta in questo momento storico in cui il miracolo davvero il nostro signore ci ha messo in condizione di poter fare questa battaglia il programma l'unico programma come dice bene agnese mascellari con dei valori è il nostro che si può trovare su www.ilpopolafamilia.it con le 65 proposte concrete con l'operatività per andare concretamente a far ripartire l'italia facendo ripartire la famiglia e la cultura della vita e allora così si sbattono le persone come Renzi all'opposizione e si governa a partire dalle nostre condizioni questa è l'unica seria operazione politica che si può fare il 4 marzo chiunque dice che questo tipo di voto è un voto disperso sta facendo mera operazione di ripicca personale coltivando gli interessi che sono sciocchi del tutto lontani da ciò che è l'interesse collettivo sicuramente del popolo cristianamente ispirato presente nelle piazze del femmini dei rappresentato lo ripeto dai candidati che da quei palchi parlavano Gianfranco Amato Nicola Di Matteo Maria Di Norfi nessun altro è candidato tranne uno che è appunto candidato alla quarta posizione nella lista della lega capitanata da un nemico del femmini dei da una nemica anzi Giulia Buongiorno chi va a votare per Giulia Buongiorno sa che va a votare per i nemici del femmini dei e prepara le condizioni per la legge scalfarotto Buongiorno che ci vorrà mandare tutti in galera allora questo voglio che sia chiaro a tutti i militanti del pdf questi 12 giorni di campagna elettorale si fanno all'attacco non vi fate dire il voto disperso lo ripeto il voto disperso il voto di chi non coglie la straordinaria occasione la clamorosa occasione che questa volta c'è e non ricapiterà mai più con una legge proporzionale con sbarramento basso di portare un'organizzazione politica cristianamente ispirata salda sui principi non negoziabili in parlamento a fare presidio perché non vincano i Matteo Renzi non vinca la sua ambiguità non vincano le sue bugie voglio dire una cosa su Renzi quello mi dà fastidio è davvero l'opportunismo Renzi ha voluto coprirsi a sinistra varando le leggi sull'Unione Gay e Biotestamento adesso prova a richiedere il voto dei cattolici in maniera vergognosa fa un programma elettorale da cui espelle la proposta del matrimonio gay perché sa che con quella non si poteva proprio presentare davanti ai cattolici toglie persino Sergio lo giudice dalle liste perché è fatto così il ragazzo a seconda dell'opportunismo politico del momento vorrebbe da chiedere a Ivan Scalfarotto ti sei accorto sì che la tua propostina sul matrimonio gay non c'è più nel programma elettorale del PD perché l'uomo è fatto così quando gli serve dare addosso ai cattolici da addosso ai cattolici fa il ganassa davanti alle piazze del femminile dice pure se c'erano 5 milioni di persone in piazza io non avrei fatto passi indietro sulle unioni gay bene e allora adesso che vieni a chiedere però adesso non mette cancella dal programma elettorale del PD il matrimonio gay per provare a recuperare perché l'uomo è fatto così è opportunista apostata è opportunista va da vespe dice ho giurato sulla costituzione non sul vangelo ma in realtà li tradisce entrambi come ora tradisce in tutta evidenza persino i suoi compagni di scrata lgbt mi avrebbe da chiedere a Ivan Scalfarotto che ne pensi Ivan Scalfarotto del fatto che ti abbiano cancellato la proposta del matrimonio gay dal programma che ne pensi del fatto che non abbiano candidato Sergio lo giudice come mai adesso fa il recupero Renzi per cercare di recuperare i voti cattolici ma tranquilli tanto se va al governo con le intese fatte con Berlusconi e con i suoi compari poi dopo fa tranquillamente il nuovo passo magari fanno la legge sull'eutanasia perché adesso diventerà disumano uccidere per fame e per sete facciamo direttamente il pento barbital fanno la legge Scalfarotto buongiorno è un classico delle larghe intese se noi non prendiamo questo nostro tre per cento e andiamo a difendere i principi non negoziabili a difendere persino noi stessi dalla galera e a far sì che le larghe intese non nascano bene dopo non si vengano a lamentare i cattolici quando vedranno l'esito inevitabile del governo l'argentese Berlusconi lega Renzi non si lamentino non voglio sentire dopo le lamentele dice Chesterton che gridare quando il danno è stato compiuto non è solo inutile da cretini ora bisogna urlare fare qualcosa che somiglia a un urlo e cioè votare popolo della famiglia affinché il male non si produca questo è ciò che noi dobbiamo fare ora il male non si produca e chi non vota popolo della famiglia crea le condizioni perché ci sia una legislatura identica a quella del 2013 e infatti voteranno come il 2013 serve novità e discontinuità come ha detto il vescovo Suetta come dicono i 200 sacerdoti firmatari dell'appello a favore del popolo della famiglia e come diciamo noi in tutti i comizi che facciamo ora dobbiamo andare a incontrare le persone una per una per strada andare a recuperare il consenso far votare per il nostro simbolo fallo conoscere cominciamo avere dei piccoli spazi mediatici oggi c'è un'intervista sul libero vi annuncio già che con ogni probabilità avrò un'intervista di qualche minuto faccia a faccia con Bruno Vespa tra due giorni avrò una conferenza stampa in rai di 40 minuti in prima serata con ogni probabilità giovedì insomma stiamo lavorando per avere tutti gli spazi anche mediatici sapendo che però non sono i media a produrre il consenso i media possono solo produrre una qualche dimensione di convincimento di consenso già seminato qui noi ora dobbiamo fare la semina noi ora dobbiamo fare la semina perché poi dopo quando ci vedono nei media in questi ultimi 12 giorni possono avere la conferma di quello del lavoro che stiamo facendo ieri ero a super partes come ha visto Mauro Chialasti sulle reti mediaset cominciano a resterci degli spazi mediatici che sono riuscito a capocciate ad aprire con qualche rapporto anche personale adesso cominciamo ad avere qualcosa lo ripeto ieri super partes mediaset oggi intervista al libero avremo concordato personalmente uno spazio anche a porta a porta di intervista di qualche minuto avremo 40 minuti invece di intervista di conferenza stampa in rai questa settimana comincerete a vedere quel lavoro faticoso che proprio personalmente ho portato avanti con i colleghi che ci sono nelle varie testate comincia a vedersi qualcosa a mediaset avete già visto ieri oggi avete visto libero e insomma piano piano ma lo ripeto quelli non sono i voti i voti non arrivano dai media i voti arrivano se dove abbiamo seminato poi quelli che hanno seminato vedono anche la conferma dei media ma intanto è fare il lavoro sul territorio che porta al consenso e ricordatevi poi che avremo una grandissima giornata di visibilità mediatica il 24 alle ore 11 e 30 a roma dove siete tutti obbligatoriamente convocati si molla il collegio per qualche ora si viene a roma sabato 24 ore 12 ore 11 e 30 per l'assemblea nazionale del popolo della famiglia a un passo dal cielo mi raccomando sabato questo sabato 24 ore 11 e 30 teatro sala umberto teatro storico della capitale tutti a roma ore 20 ore 11 ore 11 e 30 sabato 24 dunque troviamo troviamoci tutti perché una grande festa con la sala come dice paolo chialasti che deve scoppiare non fate i pigri mi raccomando non fate i pigri noi ci muoviamo con la massima celerità la massima attenzione per avere tutto ciò che possiamo state appendendo i manifesti lo so in giro per l'italia eh state facendo un gran lavoro tutti anche con le manine come dice daniele donardi cioè con i santini distribuiti uno per uno e adesso il tema è far conquistarsi il consenso casa per casa cementarlo con un po' di apparello diciamo di apparato mediatico e di visibilità ma arrivare al milione di voti con necessità spiegando a tutti che non c'è un'altra occasione non ci sarà il 2023 perché nel 2023 si torna a votare in cinque anni l'italia sarà massacrata se non ci sarà il popolo della famiglia francesca dice perché è così importante venire a roma per me una giornata in meno sul territorio perché dobbiamo riempire un teatro perché è un teatro molto grande e perché sarà un'occasione di visibilità televisiva cioè le telecamere verranno a vedere cosa fa il popolo della famiglia sabato ed è forse l'unica occasione che abbiamo di attenzione nazionale alla nostra attività dunque è bene esserci il vespa è commesso il vespa abbiamo parlato abbiamo ottenuto sgraffignato diciamo così questi pochi minuti per farci sentire ci sarà anche questo in settimana lavoreremo a tutte le operazioni necessarie a fare questo tipo di lavoro allora adesso è fondamentale però che cogliamo il momento e cogliamo l'elemento politico di questa fase lo ripeto chi si è mobilitato per il family day ha un'unica vera occasione votare per le persone candidate che vengono dal palco del family day e per il popolo del family day che si è mosso con il popolo della famiglia non fare questo passaggio non fare questo lavoro è un crimine dal punto di vista politico perché non ci saranno altre occasioni nel 2023 sarà troppo tardi dunque lo si fa adesso e chi non vota popolo della famiglia sta disperdendo il voto a favore di cosa lo disperde delle larghe intese perché l'esito scritto di queste elezioni è un centrodestra che come avete detto dappertutto che arriva a un po' di seggi ma non abbastanza per governare non può fare altro perché quelli sono i limiti che la legge ha costruito in maniera che fossero tecnicamente invalicabili e farà l'accordo con Renzi Renzi fa l'appello ai cattolici bene i cattolici devo rispondere con lo striscione che c'era in piazza Renzi ce ne ricorderemo e ce ne ricorderemo il 4 marzo quello striscione l'abbiamo scritto noi qualcuno se ne appropia ora ma politicamente non aveva idea di cosa fa scrivere sugli striscioni è uno striscione dei nostri amici lo abbiamo srodolato in piazza ed è quello che faremo il 4 di marzo diremo Renzi ce ne ricorderemo e ti sbattiamo all'opposizione altro che appello ai cattolici perché hai tradito e sei uno che tradisce sempre hai tradito la tua fede hai tradito il tuo popolo stai tradendo anche quelli con cui ti eri messo visto che hai cancellato il matrimonio gay dal programma perché adesso non ti conviene più e allora questo tipo di personaggio politico va sbattuto all'opposizione per sbattere all'opposizione Renzi bisogna votare il popolo della famiglia cioè votare una forza politica che avrà numeri necessari per chiudere una maggioranza di governo tenendo fuori il pd è chiaro se non succede questo se non succede questo il pd diventa determinante per la costruzione della maggioranza di governo e staranno sempre lì a dare le carte dunque chi fa mobilitazione per il popolo della famiglia fa la mobilitazione per mandare davvero le sinistre all'opposizione e dunque l'unico voto serio è per quelli che parlavano sulla piazza del femmini dei Gianfranco Amato Nicola Di Matteo Maria Di Nolfi non ci sono altri candidati è totalmente inventata l'appartenenza di questi altri candidati alla mobilitazione di organizzazione di comitato del femmini dei totalmente inventata non c'è mai stata lo sapete potete fare il fact checking ad andare a guardare i nomi di chi ha parlato al circo massimo a san giovanni c'è solo una persona candidata a queste elezioni non col popolo della famiglia è candidata al quarto posto di una lista leghista capitanata da un nemico del femmini dei da una nemica del femmini dei che si chiama giulia buongiorno quindi chi non fa propaganda e chi non aiuta il popolo della famiglia è per ragioni personalissime di livore personale di interesse personale e cancella la enorme opportunità storicamente irripetibile di utilizzare una legge proporzionale con sbarramento al tre per cento per entrare dentro al parlamento con un livello di consenso importante determinante per la costruzione della maggioranza prossima avventura francesca paduzzi dice tantissimi stanno aderendo esterni al femmini dei ovviamente ne arrivano tanti anche da fuori possiamo incontrare tante persone da fuori ma intanto se anche facessimo solamente il pieno dei voti della piazza del femmini dei noi chiaramente avremo già la nostra rappresentanza parlamentare servono secondo gli ultimi calcoli 900 mila voti neanche un milione 900 mila voti e dunque questo obiettivo è realizzabile basta essere concreti e uniti concreti e uniti nell'obiettivo finale non disperdete il voto votate solo popolo della famiglia chi disperde il voto aiuta il pd ad entrare in maggioranza ancora una volta quindi non lo disperdete il voto date un voto utile utile alla vostra coscienza a voi stessi alla vostra militanza e il voto utile si fa votando popolo della famiglia è l'unico voto utile che noi possiamo compiere altrimenti si porta il pd al governo ancora una volta come dal 2011 a oggi dunque questo è il lavoro che noi dobbiamo compiere come dice bene rita bacchiega la gente ti ringrazia quando fai conoscere il popolo della famiglia perché così hanno un'opzione allora andiamo per strada e facciamo conoscere questa opzione il popolo della famiglia è l'opzione valoriane per spazzare via la vecchia politica e il vecchio inciucio che dura dal 2011 cioè tra cento destra e cento sinistra ovviamente poi il momento 5 stelle si propone con questi truffatori del bonifico finto con tre massoni adesso c'è fuori pure quello che picchia la moglie la figlia insomma se vuoi dare un voto valoriale e di coscienza come dice stefano pallini lo si dà al popolo della famiglia è un voto utile ai nascituri utile ai disabili utile a chi soffre utile agli ultimi utile a quelli come dice gabrielle marconi utile a quelli che abbiamo trovato nella lettura del vangelo di oggi utile ai più piccoli a quelli che non hanno voce utile a loro e quindi pienamente cristiano pienamente evangelico come voto facciamolo sapendo che ciò determina la costruzione di una grande pianta come dice maria cardello il nostro popolo della famiglia un piccolo seme che porterà frutto piero lo iacono dice parecchi eventuali astenuti voteranno popolo della famiglia agnese vascellari ci chiarisci anche l'aspetto economico del programma aspetto economico del programma è molto chiaro se tu investi sulla famiglia con reddito di maternità se investi sulla famiglia con il quoziente familiare cioè con proposte concrete fattibili che costano poco cosa succede che quei soldi che entrano nelle tasche della famiglia entrano in circolo anche nel sistema economico finalmente e non con una in una maniera viziosa come faresti con reddito di maternità che costa 100 miliardi di euro ma non era virtuosa andando ad alimentare la domanda interna andando ad alimentare i consumi dunque di conseguenza facendo crescere il fatturato delle aziende quindi il pil quindi l'occupazione perché noi siamo attenti alle imprese che in questo paese 2 milioni 600 mila sono imprese familiari piccole medie imprese artigianali imprese commerciali ma questo è il tessuto economico della nostra nazione allora investire sulla famiglia significa investire sul futuro del paese anche in termini economici chi vuole scrivermi personalmente lo chiede donata porcupo scrivermi adinolfi ghioccio a gmail.com lo ripeto adinolfi ghioccio a gmail.com noi chiediamo il consenso al popolo della famiglia perché anna eccelli dice siamo soffocati dalle tasse qui bisogna fare appunto la riforma fiscale del quoziente familiare vincenzina lentino dice io lo voterò e per con tutto il cuore benissimo antonio luongo c'è la gente veramente stanca ma ancora speranze in una rinascita vera dell'italia grazie mario per il popolo la famiglia grazie a tutti voi anna del guerra cita il vangelo di oggi dice gesù è chiaro no dat ilaria giurlani leggete il programma è tutto chiaramente spiegato paolo gnoli benissimo usciamo dal nostro guscio ottima indicazione anche di paolo gnoli monica consigliere la famiglia è sempre stata il pilastro della società e allora reinvestiamo sulla famiglia ripartiamo a edificare una grande italia partendo da questo pilastro anna golezinovska dice io e mio marito se non cambia niente andiamo via dall'italia anna cambierà qualcosa grazie al vostro voto grazie ai cuori puri grazie alla grande abnegazione che metti in tutto questo e grazie al popolo la famiglia che stai aiutando e noi ti siamo enormemente grati grazie anna golezinovska grazie alla tua purezza e lui lei dice andiamo in polonia vediamo di fare la polonia in italia care anna facciamo davvero la polonia in italia anna lì signori c'è l'unico voto utile quello utile alla mia coscienza vi voto con piena convinzione votate cara anna e fai votare mi raccomando è la fase determinante in cui oltre a votare devi far votare fatemi salutare anche fausto testa che è arrivato volete mandare il pd davvero all'opposizione votate popolo la famiglia non c'è il 2023 tra cinque anni saremo stati travolti abbiamo questa occasione non disperdete i voti non date voti alle larghe intese alle coalizioni che vogliono andare alle larghe intese cogliete l'occasione per portare il movimento politico cristianamente ispirato fermo sui principi non negoziabili a favore del popolo della famiglia con questo voto utile non disperso noi andremo a fare il 3 per cento e rappresentare davvero la speranza il cambio di pagina che può esserci in questo paese la battaglia è oggi come dice letizia disidoro e allora la battaglia va compiuta a casa per casa ci sono rimasti 12 giorni vi chiedo di avere cura di questa diretta fate mi piace la diretta in questo momento per favore fate il condividi sulla vostra pagina non ci saranno altre dirette prima di venerdì quindi avete questa occasione con questa diretta per far conoscere queste parole che credo possano essere utili dunque per favore mi piace alla diretta condividi la diretta sul tuo profilo invita gli amici a seguire la diretta stessa perché queste parole possano circolare perché sia chiaro che il voto da dare se si è cattolici cristianamente ispirati persone di buona volontà che tengono alla famiglia la cultura della vita è il voto al pdf solo al popolo della famiglia ogni altro voto favorisce le larghe intese è un voto disperso inutile se non dannoso è un voto dannoso perché costruisce purtroppo le condizioni della permanenza di matteo renzi al potere mentre matteo renzi deve avere una lezione chiara il suo appello ai cattolici noi lo respingiamo totalmente lo respingiamo al mittente perché offerto da una persona non credibile da un'apostata che ha insultato il vangelo che ha detto io giurato sulla costituzione non sul vangelo senza accorgersi di averli traditi entrambi e che ora prova il recupero tradendo i nuovi amici perché il tradimento quando uno è traditore tradisce sempre e allora toglie con il bianchetto il matrimonio gay dal programma elettorale non candida sergio lo giudice vorrei chiedere a iva scalfarotto cosa pensa di queste operazioni di maquillage del suo amico matteo renzi noi invece siamo seri coerenti proponiamo da anni sempre la stessa ricetta il popolo la famiglia si è misurato con questa ricetta durante le elezioni amministrative degli scorsi anni ora chiede il consenso al popolo italiano in nome di un programma chiaro che trovate su www.ilpopolafamiglia.it che ribadiremo tutti insieme sabato 24 alle ore 11 e 30 alla sala umberto di roma italia dice vai a riposarti un po che non ti si vedono gli occhi hai ragione sono un pochino stanco ma d'altronde qui ogni giorno bisogna lavorare oggi ho mandato in chat operativa alle ore 4 del mattino l'intervista che avevo fatto al libero in maniera che possa circolare anche questa poi ho dovuto preparare questa diretta di oggi ora devo prendere un treno ci vediamo stasera a torino mentre ieri sono partito dalla calabria dalla mezziaterme ringrazio gli amici di soveria mannelli di la mezziaterme e tutto il lavoro che è stato fatto anche in calabria che sono andato a cercare di dare una mano a tutte le regioni in ogni lembo estremo del paese e ehm è arrivato anche antonino monteleone delle iene lo salutiamo con eh amicizia saluto marcial muster caro amico marchiciano che verrà a roma sabato 24 alle ore 11 e 30 lo ricordo alessandra mondelli ci vediamo stasera a torino certamente ci saluta anche luciano signorile da barletta saluto saimir smali cecilia maria biancarelli emanuela pongiluppi ricordo l'appuntamento tutti a roma 24 febbraio teatro salomberto via della mercede 50 ore 11 cominciamo alle 11 e 30 saluto caro antonino monteleone le sue inchieste su monte paschi siena sulla morte di david rossi hanno aperto uno squarcio su come funziona anche il mondo della massoneria io ho provato a dirgli insomma attento quella è la vera strada livelli massonici internazionali che hanno dominato la procedura di monte paschi siena nell'acquisizione di anton veneta mh sono temi molto complessi eh avremo modo di approfondirli ma complimenti a antonino monteleone per il lavoro fatto alle iene su quella pagina che è una pagina vergognosa della recente storia italiana ehm mauro torrini c'è anche convinti i sostenitori del partito democratico ci hanno confermato che voteranno popolo della famiglia ragazzi Renzi non si può veramente votare lo ripeto si è dimostrato traditore degli amici in ogni occasione e questa modalità che è poi diventata tradimento del vangelo addirittura ostentata dicendo giurato sulla costituzione e non sul vangelo dicendo seppure venivate in 5 milioni al popolo del femmini dei avrei comunque messo la fiducia sulla legge Cirinna eh a una persona che fa questo tipo di eh lavoro contro i suoi fratelli perché poi lui si dichiara cattolico eh è stato boy scout e allora davvero non si può a lui non si può credere a lui proprio no bisogna mandarlo all'opposizione per mandarlo all'opposizione bisogna assolutamente far sì che il popolo della famiglia vinca la sua sfida e che non ci sia dunque il governo di larghe intese perché saremo noi con i nostri parlamentari eletti a essere determinanti per la costruzione di una maggioranza e noi quella maggioranza lo faremo la faremo solo se il partito democratico e Renzi saranno sbattuti all'opposizione le larghe intese non ci interessano vogliamo fare una maggioranza politicamente delineata e una maggioranza capace di essere presidio dei principi non negoziabili questo grazie al lavoro che svolgerà il popolo della famiglia per questo ogni singolo voto dei cattolici dei cristianamenti ispirati delle persone di buona volontà deve andare al popolo della famiglia ogni altra modalità di espressione del voto equivale a dispersione del voto a voto non solo inutile ma dannoso perché purtroppo spiana la strada al governo di larghe intese vi ringrazio molto per questa diretta e lo ripeto è l'ultima che farò prima di venerdì il venerdì sarà il giorno antecedente la nostra assemblea di sabato dunque venerdì ci sarà una diretta di stampa evangelo è l'ultima diretta che farò prima dell'assemblea di sabato questa dunque fatela circolare in queste ore in questi giorni per favore basta un mi piace alla diretta basta il condividi sul vostro profilo basta l'invita amici per seguire appunto la diretta stessa saluto anche la grande debora vezzani una delle voci più belle ispirata cristianamente sta scrivendo delle canzoni una più bella dell'altra saluto tutti gli amici che sono connessi davvero in tanti in questo momento vi chiedo però di nuovo più mi piace possibile la diretta stessa il condividi sulla vostra pagina e l'invita amici per far seguire la diretta alle persone che in questo momento sono esterne buona settimana a tutti lo ricordo è la penultima settimana di campagna elettorale ci sono rimasti 12 giorni 12 giorni dobbiamo metterli a frutto con coraggio giocando all'attacco e non in difesa sul mio profilo metterò tutti gli appuntamenti che ci saranno in televisione oggi c'è la intervista sul quotidiano libero l'ho messa pure in chat operativa potete farla circolare come immagine e vi darò tempestivamente l'orario preciso di messa in onda dei passaggi televisivi grazie a don francesco morcavallo che mi dice che dio di stra benedica davvero ne ho bisogno bisogna partire per torino partire con residuo di energie che ci sono sono poche 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 ma almeno per questi 12 giorni devono durare e so che voi pregherete per me Elena Bentini dice questa sera siamo stati invitati da una famiglia che ha raggruppato un po' di amici per conoscere meglio il programma del pdf uno a uno a mani nude in mezzo alla gente questa è la definizione più bella della nostra preziosa e bravissima Elena Bentini grazie davvero saluto Luca Barra con cui ci vediamo stasera Ania Colezzinosca Prisca Vegni Piero Loghiacono Marcial Muster Anna Scapin Chiara Ardente i residenti all'estero Michele Chiara Ardente non possono votare proprio la famiglia perché hanno fatto questo tipo di sbarramento e apparentemente non ha consentito a nessuno che potesse raccogliere le firme di presentare il simbolo quindi ci sono solo i simboli dei partiti che non raccolgono le firme dunque vi chiedo per favore di annullare la scheda scrivendoci sopra popolo della famiglia o voto a popolo della famiglia perché il numero di voti che così dobbiamo ottenere per avere il 3% è più basso perché il voto nullo non è voto valido quindi abbassiamo il livello del quorum ognuno scriva voto popolo della famiglia o popolo della famiglia sopra la scheda se sta all'estero per farlo entrare dunque nei voti non validi e abbassare il quorum dei voti validi. Questa è la nostra indicazione ovviamente per i cittadini all'estero che devono ancora votare sulle schede che sono giunte nelle loro abitazioni. Grazie a tutti voi vi lancio verso la stazione per andare verso Torino dove ci vediamo stasera alle 20.30 se non vado errato alla GAM dunque poi domani ci vediamo a Monza farò un passaggio al mattino a Bologna insomma abbiamo tante cose da fare ora Angelo De Santis che arriva al volo dice manca un pezzettino piccolo piccolo tutti insieme ce la faremo dai popolo della famiglia tutti in strada e ora davvero davvero tutti a far conoscere questo meraviglioso simbolo il nostro quello dove non c'è scritto il nome di Berlusconi di Meloni di Salvini di Grasso di Lorenzino della Bonino perché non è un movimento che fa interessi di una persona ma fa gli interessi di un popolo che è quel popolo descritto dal simbolo papà mamma figli siamo tutti almeno dei figli e sappiamo quanto di prezioso ci sia in questo tipo di elemento. Monica Consigliere dice vai piano che se crolli tu è un disastro il Signore mi darà la forza lo sguardo benevolo di Maria è poggiato sul mio cammino c'è un angelo a proteggere le dirette l'angelo custode si occupa di me andiamo avanti ho esaurito le energie fisiche ma questa non è una partita di persone è una partita in cui la corsa è sostenuta dalla volontà del Signore e dunque questo faremo finché ogni goccia di energia sarà rimasta nelle vene e allora andiamo davvero a conquistarci i consensi perché Dio centuplica le forze come dice Agnese Mascellari grazie a Daniela Tascini che mi augura il buon viaggio a Gasperina analizzato a Roberto dell'Aquila a tutti gli amici che sono qui in diretta ricordatevi per favore di fare il mi piace alla diretta in questo momento a fare la condivisione sul vostro profilo a fare il l'invita amici Anja Kolevzinowska molto carinamente scrive che mi vede dimagrito non riesco ad avere proprio il tempo per mangiare quindi questo magari sarà utile al dimagrimento e poi la barba copre tutto sommato sembro più magro forse anche per questo sono veramente molto molto stanco questo ve lo confesso correre da un lato all'altro ripeto ieri ero alla mezzia terme e oggi sarò a Torino capite come può essere faticoso fare tutto questo il giorno precedente in Sardegna domani a Monza passare prima da Bologna insomma il lavoro è davvero estremo dal punto di vista dello sforzo fisico c'è anche uno sforzo economico vi sto facendo arrivare tanta 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 roba tanto materiale in maniera che ci sia modo di avere il contatto con tutti ma ora sta a voi far sì che non sia vano tutto questo e allora perché non sia vano bisogna conoscere almeno ognuno di noi le 500 persone che abbiamo in agenda far sapere loro che c'è l'opzione di voto di votare con come dice gaspina analizzato con una croce sul simbolo del popolo della famiglia farlo con tutti farlo senza timidezze spiegando a chi ci attacca che il voto utile l'unico voto utile è il voto dato al popolo della famiglia ai candidati che stavano sul palco al circo massimo gianfranco amato nicola di matteo maria di nolfi che non ci sono altri candidati di quel palco alle prossime elezioni se non uno in quarto posto ineleggibile nella lega nord di un di una lista capeggiata da una nemica del femmini dei come giulia buongiorno quindi chi dice bisogna votare in quella maniera sta facendo solo attività di interesse personale animato dalla da livore personale ai miei confronti senza come al solito avere un minimamente idea di come funzioni un meccanismo politico e consegnando la strada purtroppo al rinnovo delle larghe intese col partito democratico sempre al governo chi vuole buttare via il partito democratico dal governo vuole costruire le condizioni perché l'occasione storica che ci è stata data di andare in parlamento con una legge elettorale proporzionale con sbarramento basso al 3 per cento che non ricapiterà mai più chi vuole cogliere questa occasione storica può solo cogliere il voto al popolo della famiglia come opportunità al di là delle persone al di là delle simpatie delle antipatie la politica delle regole questa occasione va accolta chi non capisce che deve coglierla lo sta facendo per interessi personali bieghi o per questioni di livore individuale si voti ciò che è ragionevole votare cioè votare popolo della famiglia se si è vicini ai principi non negoziabili alla difesa della cultura della vita della famiglia se si è contro l'eutanasia l'aborto e la cultura nichilista di questo paese non c'è alcuna altra possibilità se non il voto al popolo della famiglia l'unico voto utile il resto è un voto disperso inutile e dannoso che non coglie la straordinaria occasione storica che il signore ha messo sul nostro cammino sarebbe davvero un peccato grave vi ringrazio tutti per l'attenzione a questa diretta vi ripeto un mi piace per favore una condivisione sul vostro profilo invitate gli amici a seguirla noi ci rivediamo venerdì 23 di febbraio giorno antecedente la grande assemblea dove vi aspetto tutti sabato 24 alle ore 11 e 30 via della mercede 50 teatro sala umberto agna golevzinosca dice devi fare qualche diretta prima di venerdì queste aiutano molto usate questa ce l'avete consumatela fatela andare in giro tagliuzzatela prendete i piccoli passaggi da un minuto e mezzo due minuti due minuti e mezzo e mettete in giro non più di due minuti già due minuti e mezzo sono troppi perché la gente si annoia quindi utilizzate questi meccanismi da questa diretta potete trarre dei video delle pillole che sono utili da far avere ai nostri amici magari in dubbio e fateli conoscere in maniera che al di là delle persone ma di noffi può stare antipatico simpatico non conta niente adesso adesso conta compiere una scelta razionale compiere un passaggio politico fondamentale con un'occasione storica che non capiterà mai più si fa votando popolo della famiglia se la diretta è troppo lunga prendete un minuto e isolatelo un minuto e mezzo tagliatelo prendete la parte che serve e fate sapere agli italiani che questa occasione storica va colta ho capito devo prendere il treno ci vado un saluto a claudia cadria claudia de rosa a raffaella della vecchia a cinzia gioia a tutti gli amici che carinamente stanno invitandomi ad andare perché giustamente ci saranno pure annoiati ci vediamo a torino stasera domani a monza venerdì nuovo in diretta sabato a roma alla sala umberto adesso mai più o capiamo o moriamo come scrive patrice lo zeral giovane arminio anche mi ricorda che dovevo prendere il treno e allora vi saluto e si va a torino dai forza mario che se la ce la facciamo vero perché il signore è con noi e le vostre preghiere mi accompagneranno ne sono certo saluto barbara mohi carmen benevento corrado salonia guido pianeselli tutti gli amici che sono arrivati ora in diretta da maria di norfi una buona giornata